Musica Ben trovati con l'informazione di Canale 74, apriamo oggi parlando del caso Loris. Oggi l'ultimo saluto al bambino, intanto ieri sera durante la trasmissione contro mano il giudice Antonio Corbino ha affermato perché la procura non procede ad una perizia psichiatrica nei confronti di Veronica? Sentiamo. Oggi è il giorno del saluto a Loris. La sofferenza di un paese intero si raccoglierà intorno all'Omelia che celebrerà questo pomeriggio il vescovo di Ragusa, Monsignor Paolo Urso. Tanti manifesti funebri salutano il piccolo Loris, uno anche a nome della mamma. Intanto gli elementi di indagine emersi e le dichiarazioni che ingrossano le file di rotocalchi, trasmissioni TV e TG nazionali aprono sempre nuovi scenari sul fronte investigativo. Veronica è reclusa sempre in carcere a Catania, ma la procura ha proseguito fino a ieri a rilievi comparativi sui luoghi della tragedia nell'abitazione degli Stival. Durante la trasmissione di contro mano andata in onda ieri su canale 74, l'ex presidente del tribunale di Gera, il giudice Antonio Corbino, incalzato dai colleghi Andrea Di Falco e Gianni Molè, ha posto un serio interrogativo sull'assenza ancora di una perizia psichiatrica che accerti lo stato di eventuale infermità di Veronica. Sentiamo. Ecco perché io dico l'incompatibilità fra i due momenti, il momento materiale e il momento soggettivo. Com'è possibile che una donna abbia commesso questo? Ora, non è detto che non sia possibile, però bisogna vedere perché, non tanto il movente, ma vedere un poco le condizioni psichiche di questa signora, si devono accertare prima di capire, perché è inutile andare avanti. E Davide Stival, il papà di Loris, non avrebbe mai detto la frase di credere agli inquirenti. Lo ha rivelato ieri sera a contromano Franco Di Martino, psicologo dell'ASP 7 di Ragusa. Ma persino il marito, il quale ha detto, devo credere, secondo le ultime dichiarazioni anche del legale, devo credere agli inquirenti. Devo credere agli inquirenti e questo è il motivo per cui non sono andato a trovare mia moglie in carcere. Io penso che questo non sia vero, tuttavia... In che senso non è vero? Nel senso che io ho informazioni di tipo diverso, quindi non penso... Il marito non avrebbe fatto sui dichiarazioni? Assolutamente no. Questo è quello che riporto negli organi di informazione? Voglio dire, non faccio né il giornalista... E ora cambiamo argomento e ci spostiamo a Vittoria. Il buco nero delle maia minaccia di risucchiare il comune. Non si esclude l'interesse della magistratura nella gestione finanziaria tutt'altro che oculata. Circa 2 milioni di euro è la cifra su cui barcolla l'amministrazione comunale di Vittoria. La montare dei debiti contratti dalla fiera e maia è un problema di pesantissima rilevanza, tanto più in questo periodo, nel quale l'intera giunta è posta sotto verifica. Il buco di bilancio delle maia rischia di risucchiare il comune, che adesso cercherà di correre ai ripari. I creditori battono cassa e arrivano le ingiunzioni di pagamento, fino anche alcuni assegni protestati. Sono su tutte le furie decine e decine di fornitori. Atteso come il ciclone e maia si stia ingigantendo giorno dopo giorno, non è da escludere che la magistratura possa aprire un fascicolo in merito alla disastrosa situazione del bilancio delle maia e la sua gestione finanziaria tutt'altro che oculata. E a modica è fisco inferno quando i ruoli superano il costo del servizio. La Tari, la tassa sui rifiuti, costa ai cittadini modicani poco più di 9 milioni di euro. Secondo il consigliere comunale Ivana Castello, però, l'amministrazione Abate avrebbe messo ruoli per più di 10 milioni. In pratica il comune ci guadagnerebbe pure. Una anomalia, oltre che un vizio normativo da correggere al più presto, che il consigliere Castello aggiunge al caos tributario in seno all'ente. Infatti è di pochi giorni fa, attraverso una petizione popolare che ha raccolto più di 1.500 firme di cittadini, che ha posto alcuni rilievi sulla applicazione dell'aliquota della Tasi. Aliquota attestatasi all'1,85 per mille, quasi il doppio di quella minima indicata dal Ministero. Sentiamo Ivana Castello. Far sì che il sindaco possa attenersi a quelle che sono le disposizioni normative. Nel senso che con la petizione noi abbiamo chiesto quali sono le ragioni e le esigenze che hanno spinto per esempio l'amministrazione ad adottare un'aliquota che è quasi più del doppio rispetto all'aliquota base, quindi un'aliquota dell'1,85 per mille. Anche per la Tari sto cercando di approfondire tutti gli aspetti che riguardano la Tari perché ci siamo resi conto, mi sono resa conto effettivamente che rispetto a quello che è il costo iniziale del servizio sono stati emessi dei ruoli che superano il costo stesso. Quindi se il costo del servizio previsto era di 9 milioni e mezzo, 9 milioni e tre euro all'incirca, invece il ruolo emesso lo supera di un milione o un milione e due. E a Scicli un nuovo buco nero, oggi un'altra denuncia di soldi che l'ente continua a perdere. Vediamo. Scicli nella tormenta, ancora notizie nere per la città. Non c'è pace per gli ciclitani che continuano a scoprire il retaggio di una cattiva amministrazione. Oggi l'ultima tegola. Scicli avrebbe potuto usufruire di poco più di 3 milioni 400 mila euro, somma destinata al piano integrato di Iungi. Ad essi si aggiungono i 6 milioni di euro circa, a denunciati ieri dall'onorevole Orazio Ragusa. Questa volta a segnalare la grave mancanza è stato il coordinatore di Liberi e Concreti, Giovanni Savà, che assieme ad altri ex consiglieri comunali ha chiesto conto e ragione della revoca del finanziamento per il recupero e la riqualificazione della città, che sarebbe stato concesso dal Dipartimento regionale delle infrastrutture. È l'ennesima pesante notizia che si abbatte su un comune, quello di Scicli, che vive un momento straordinariamente difficile e sulla sua amministrazione, che da troppo tempo si distingue in negativo. E a Modica le ambizioni di riscossa della Banca della Contea. L'Istituto dovrebbe continuare ad esistere nella rete del credito cooperativo. Manovre importanti della Banca di Credito Cooperativo della Contea di Modica. L'obiettivo è la ricapitalizzazione. Respinta alla proposta di aggregazione della riscossa di Regalbuto, la Banca Modicana guarda al futuro, in uno scenario in cui potrebbe continuare ad esistere come credito cooperativo. Nei prossimi giorni, infatti, il Comitato incontrerà le istituzioni e le organizzazioni locali al fine di illustrare un piano per il raggiungimento dei nuovi vincoli normativi previsti dal 2016 per le banche di credito cooperativo. Servono 2 milioni e 500 mila euro entro il 30 agosto 2015. E ora la cronaca. Un milione di euro di rame rubato. E questo è il nuovo business dei rumeni in provincia. Danni all'Enel di Ragusa per oltre un milione di euro. Una vera e propria banda. Il criminale metteva a segno furti ben congeniati. Obiettivo dei latri era il rame delle aziende agricole e zootecniche del Ragusano. Furti che in sei mesi hanno causato all'Enel danni per oltre un milione di euro. La Polizia di Stato ha sgominato un'associazione a delinquere di cittadini romeni specializzati nel furto di rame che operava nei territori di Comiso, Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Mazzarone. Le indagini sono state eseguite dalla squadra mobile di Ragusa e dal commissariato della Polizia di Stato di Comiso. E il Natale diventa online, budget ridotti e poco tempo disponibile. Sono queste le tendenze del nuovo Natale in arrivo. Un budget ridotto e poco tempo disponibile. Sono queste le due tendenze per il Natale in arrivo. Basta la corsa frenetica per l'acquisto dell'ultimo minuto, alla ricerca dell'idea più originale e meno cara. Ora i regali si acquistano online, risparmiando tempo e denaro. Tra gli acquisti preferiti sul web spiccano i generi alimentari, secondo quanto riporta la Coldiretti, che ricorda come per gli alimentari la nuova norma prevede che negli acquisti di cibi e bevande i consumatori devono ora disporre di tutte le informazioni obbligatorie per legge prima della conclusione dell'acquisto. Una trasparenza importante per combattere il rischio frodi che colpisce particolarmente gli acquisti alimentari sul web. E ora ci occupiamo di lavoro, opportunità in alto mare con Costa Crociere. Un lavoro in alto mare, Costa Crociere alla ricerca di nuove figure professionali. La nota compagnia di Crociere cerca lavoratori in vari settori, animatori, croupier, addetti alla ristorazione, qualsiasi lavoro si possa svolgere su una nave. Per maggiori informazioni e per la candidatura, accedere alla pagina Costa Carire sul sito di Costa Crociere. Bene, con questo è tutto. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci. Grazie per la vostra attenzione.